Questa è una chiusura di un anno, si parla del lancio e si parla soprattutto di quello che era l'obiettivo, cercare in qualche modo di stare vicino ai comuni. Il patto di stabilità ha creato parecchie difficoltà, ci sono stati degli sforamenti. Oggi dice i soldi ci saranno, ci sono e saremo vicini ai comuni. Noi sosterremo anche i piccolissimi comuni, inducendoli però ad associarsi, a legarsi tra loro, a fare esperienza di vita in comune perché è possibile. Lo si è fatto altrove, non solo in Italia, lo si deve fare anche in Abruzzo e noi incentiveremo queste condotte virtuose. Ho anche presentato loro un grande programma di trasformazioni territoriali riguardanti le infrastrutture della gomma, le strade, la messa in sicurezza del territorio, del suolo, il ferro al servizio dei porti e poi anche il più grande programma mai conosciuto in Italia della banda ultralarga a ultraveloce. Ha parlato anche della grande Pescara. Porteremo al vaglio del Consiglio il progetto sulla nuova Pescara ma tenendo da conto che contemporaneamente serve anche un progetto, processo di aggregazione dei piccoli comuni nell'entroterra dell'Abruzzo. Per il nuovo anno, per i comuni e soprattutto per le limitatezze economiche, che cosa si può dire? Noi abbiamo 1.724.000.000 di euro nei prossimi sei anni che vogliamo condividere, coprogettare e usare insieme a favore dei piccoli comuni d'accordo con l'Anci.